Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info volete da una volta o così oari questa ruona vorrei con la legge o se si è vero chi non vede se non vede se si si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.